Office Colette Ciao ragazzi, benvenuti a mio canale, mi sono Sresht e io sono qui con Simili, quindi dove andiamo? Ok, facciamo un recap. Quindi, come un giorno di fare un video, non è quello di fare un video, non è quello di fare un video? che in janvieria mi lato video di e che l'ha fatto una serie di eventi personal life as well as professional life so professional life è un'addedica responsabilità with added new level to my career office è toh yeah got promoted there ma tà sate sate ha pattà huo e che office kule a cha so work from home take a account so work from home directly bangalore judge chalo next i'm sure bholwala veda toh ha be toh kon da khak chal Grazie a tutti. So finally we are here having the famous filter coffee. So yeah I am in Bangalore. So then we are going to go and eat the lunch. So we are holding the coffee. Fancy drinks. So it is a store for a house and it is called this restaurant. ma mi ha detto che mi ha detto che vi fanno in spiegazioni abbiamo fatto un riferimento quindi non ci sono un riferimento perché non ci sono più volte così è un po' di popolare e cioè magari non ci sono un riferimento però anche in questo caso è proprio quello che vediamo e faccio che ho vissato Grazie a tutti. 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 Do you know? Yeah? Grazie a tutti. Yeah? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.